Gentili telespettatori, buona giornata, il PD salta sulla sedia e dice me che vergogna la Meloni che candida un no vax il padrino della caccia Vicentino secondo in lista dopo la Premier, cioè diventa capolista la Premier è capolista, ma tolta la Premier che non va in Europa poi rinuncerà il vero capolista è Sergio Berlato, lui dice che cerca la verità, non si definisce come lo chiamano gli altri un no vax o un negazionista, lui dice cerco la verità, Giorgia mi ha voluto lì, porto voti, è un po' la teoria di Sgarbi, sono indagato, sono già stato giudicato in passato, io porto voti e quindi servo alla causa e Sergio Berlato dice Giorgia mi ha voluto lì, praticamente come capolista porto voti. Io preferisco, se devo scegliere tra candidare un pregiudicato e un pregiudicato e candidare Sergio Berlato che viene definito in questo modo no vax o negazionista, lui dice io cerco solo la verità, allora se devo scegliere tra i due preferisco Sergio Berlato che candidare dei pregiudicati, non so voi cosa scegliereste, ecco se potessi scegliere non candiderei proprio, candiderei delle persone che non hanno intorno polemiche, però voi capite bene che quelli che hanno intorno polemiche sono conosciuti di più di quelli che non hanno intorno polemiche, perché Mario Rossi che non conosce nessuno lo candido e non lo vota nessuno, se invece io candido uno che ha un seguito in un ambito, quello che ha le polemiche intorno mi porta voti, Mario Rossi è sconosciuto e non mi porta voti, perché la logica è portare voti, non c'è una logica di programma, se voi avete visto alle europee, avete sentito qualcuno parlare di programmi? Avete sentito qualche partito parlare di programmi? Voi andate a votare alle europee per il programma di qualche partito? No, la logica è portare voti, vincere, sorpassare gli altri, non con i programmi ma con i voti, portare voti, voti, voti e tutti vanno bene per portare voti. Lui è il paladino della caccia e del mondo rurale, specifica lui, del mondo agricolo forestale e anche della pastorizia, è un Novax, lui dice assolutamente falso, non è vero che sono un Novax, perché Novax significa uno che dice no ai vaccini, lui dice io non sono assolutamente un Novax, è assolutamente falso, è al quarto mandato in Europa. Sono stato eletto anche nel 1994 e nel 2014, ma non si superò la soglia di sbarramento. Per tre volte consigliere regionale, la prima volta con la mia lista caccia, pesca e ambiente, Sergio Berlato, record man vicentino di Fratelli d'Italia, per numero di candidature e voti. Nel 2019 arrivò secondo solo a Giorgia Meloni con ben 19.000 preferenze. Alle elezioni dell'8 e 9 giugno corre di nuovo nella circoscrizione nord-est, al secondo posto dopo la Premier, quindi in pratica è capolista, perché la Premier si candida ma poi non va in Europa. Beh, è partito adesso, è partita proprio l'attacco del Partito Democratico, che parte con Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, che dice, Meloni ha scelto come vice capolista berlato noto per sostenere che il Covid sia stato un grande imbroglio. Leggo che c'è imbarazzo dentro gli stessi fratelli d'Italia, ma l'imbarazzo dovrebbe esserci pensando ai tanti che hanno perso la vita durante la pandemia, ai medici e infermieri in prima linea e agli elettori cui si propone questa candidatura. Noi sappiamo chiaramente da che parte stare, da quella di scienza e conoscenza. Io dico una cosa, indipendentemente che la Meloni candidi un pregiudicato, indipendentemente che la Meloni candidi un negazionista novax, poi lui dice non è vero, siete voi, voi che state ascoltando che l'8 e il 9 giugno avete la possibilità di andare alle urne. Quindi il pregiudicato che viene candidato come capolista, non berlato, non sto parlando di lui, il pregiudicato che viene candidato come capolista dalla Meloni, se voi non lo votate, quello non ci va in Europa. Quindi lei candida il pregiudicato, ma poi siete voi a dire sì, voglio il pregiudicato in Europa oppure no. Io voto un'altra persona, una persona specchiata, una persona che non ha problemi con la giustizia, un professionista della società. Quindi siete voi poi. Chi decide? Siete voi. Guardate che non è la Meloni che decide di governare. Siamo noi italiani che abbiamo eletto la Meloni. Adesso lei propone un pregiudicato alle europee. Siete voi che decidete sì, voglio il pregiudicato nome e cognome alle europee. Oppure dite no, tu puoi proporre chi vuoi. Io non lo voto, io voto un altro. Chiaro? Quindi alla fine i politici possono proporre anche al capone, al capone, capolista, vi possono mettere il capo dei capi, capolista, no? Possono anche mettere il capo dei capi, dei capi, dei capi, no? Vi possono mettere candidato il capo della criminalità della Via Latte, un tal alieno. Però se non lo votate voi, quello non va da nessuna parte. Siete voi che votate. Siete voi che decidete chi va in Europa, chi va in Parlamento e chi va al governo. Chiaro, no? Poi Alessia Moretti del PD dice che il Parlamento europeo ha bisogno di rappresentanti preparati, non di chi crede a stregoni e complottisti. E poi il segretario veneto Andrea Martella dice che c'è sempre il momento in cui la propaganda finisce ed emerge la verità. Fratelli d'Italia candida berlato, europarlamentare che si è distinto per le sue posizioni antiscientifiche, negazioniste e complottiste, non è certo un bel biglietto da visita per rappresentare in Europa uno dei territori più dinamici e competitivi del continente, cioè il Veneto. Lui ribatte dicendo giro il mondo, sono vaccinato anche per i facoltativi, ma dopo il confronto con esperti ho deciso di non sottopormi all'inoculazione di quello che lui non reputa un vaccino. Va bene, quindi poi ha tutte le sue spiegazioni, ma adesso non ho tempo, però abbiamo capito, no? La gente dice che è un negazionista Novax e lui dice non è vero, io solo cerco la verità, questo per fare un riassunto e la Meloni lo mette come capolista dopo di lei. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.